Come si è iniziato l'anno scorso? Abbiamo iniziato l'anno scorso perché un dirigente scolastico ci ha chiesto proprio al nostro ordine degli avvocati di offrire un progetto di alternanza. Taranto è una città con poche aziende, con poche opportunità e proprio per questo i dirigenti hanno provato ad interagire con l'ordine professionale. Quando sono stata coinvolta di queste esperienze sicuramente non sapevo proprio cosa fosse l'alternanza scuola-lavoro però ci siamo messi d'impegno e quindi abbiamo buttato giù questo progetto l'anno scorso con 77 ragazzi. Un successo, i ragazzi sono stati contentissimi e quest'anno già a settembre quattro scuole di cui due licei e due istituti tecnici hanno chiesto di poter stipulare le convenzioni. Quindi il 29 novembre in occasione della giornata europea della giustizia civile per noi a Taranto c'è stata la firma delle convenzioni alla presenza del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale la dottoressa Cammalleri. Ed è iniziata quindi questa collaborazione anche con il direttore generale che ci ha portato lunedì, proprio quindi qualche giorno fa, alla firma di una convenzione proprio con il direttore generale e abbiamo stilato anche un programma triennale sulla base di quelle che erano state le indicazioni che il Consiglio Nazionale Forense ci aveva dato, ha fornito e quindi indicato a novembre. Effettivamente in quella occasione io non mi sono sentita sola perché ho avuto a fianco a me il loro appoggio perché appunto da 77 ragazzi siamo arrivati quest'anno a 140, quindi facciamo un po' le somme e ci rendiamo conto di quanti sono i ragazzi a cui offriamo questa nostra collaborazione e questa nostra esperienza di educazione, questa missione sociale dell'avvocato che penso sia importantissimo proprio per iniziare i ragazzi a questa educazione, alla legalità, al rispetto delle regole e quindi farli sentire cittadini veramente del tessuto sociale, cittadini proprio democratici. E dicevo con i ragazzi quindi pensavamo quale prodotto finale realizzare, e quindi come supportare questi nostri incontri, queste nostre chiacchierate. Tra i reportage e lo studio simulato hanno scelto la guida giuridica e quello che mi hanno chiesto era di conoscere bene i loro diritti e doveri come studenti all'interno proprio della comunità scolastica. Quindi abbiamo realizzato, qui le slide sono andate velocemente, questi sono i quattro istituti che collaborano con noi, dicevamo due licee, un istituto tecnico commerciale e un istituto appunto tecnico. Quindi la guida giuridica ha previsto, prevede, sì, questo è il mar piccolo, il nostro gioiello di Taranto, la guida giuridica inizia proprio con un questionario che somministriamo ai ragazzi. Un questionario, qui è un altro lavoro che poi vi indicherò dopo, un questionario virtuale, quindi è stato inserito il questionario, un codice QR code, quindi con il cellulare i ragazzi possono quindi aprirlo, rispondere a tutte le domande per avere questa loro conoscenza in entrata appunto dei loro diritti e doveri a scuola. Fatto quindi con, poi abbiamo le stime proprio quindi in tempo reale di tutte quelle che sono le conoscenze dei ragazzi, ecco questo è il questionario in ingresso, i ragazzi poi pongono tutte queste serie di domande, quindi sarà una botta e risposta tra quelle che sono le loro domande, curiosità sui diritti a scuola e poi e quindi come sono realmente, perché i ragazzi vanno a scuola dalla prima elementare però tante volte non si rendono conto di quelle che sono le cose che possono fare o che non devono fare. Con una classe invece con cui avevamo già iniziato il percorso l'anno scorso, abbiamo pensato di fare questo processo, una storia per la storia. Abbiamo insieme all'archivio di Stato di Taranto, riportato alla luce un processo del 1925 di violenza sulla donna di una povera contadina che era stata ridotta in schiavitù dal marito e dalla suocera. Tutta una storia particolare, i ragazzi quando la vediamo dicono e poi come va a finire? Perché qua si sembra la trama di un film, c'è tutta la figura del procuratore del re, un sequestro di forcella con cui il marito colpiva la povera donna. Il processo è completo, ci sono i due gradi di giudizio, il giudizio di legittimità in Cassazione e il giudizio di rinvio. Alla fine vengono messi in carcere il marito e la suocera, ma poi la ragazza ritira la querela. Quindi per questo lavoro i ragazzi analizzeranno tutto il profilo, quindi in archivio di Stato, il profilo geografico del tessuto ionico e il profilo geografico e sociale delle campagne e insieme all'università, sempre la facoltà di giurisprudenza di Taranto, vedremo poi i risvolti penali e come questa violenza di genere, la violenza sulla donna, veniva argomentata all'epoca e come invece ha i risvolti attuali. Quindi questi incontri li facciamo sia in tribunale a scuola forense, ma anche li abbiamo fatti all'archivio di Stato e anche poi a scuola, quindi non li facciamo nei studi privati, queste lezioni, questi incontri vengono fatti in questa maniera. Abbiamo poi proposto alle scuole un programma triennale, che vedrà nel secondo anno, sempre in merito a questo incontro del 29 novembre che è stato così illuminante, la figura dell'avvocato come portatore qualificato delle stanze di giustizia dei cittadini, quindi il processo come logos dove viene riscritta la verità. Alla fine, con i ragazzi, realizzeremo un'app per orientarsi in tribunale, perché anche questa è stata un'esigenza che è scaturita proprio dalla frequentazione dei ragazzi a scuola forense. Perché cerchiamo un po' di sviluppare anche le competenze trasversali e proprie dei percorsi formativi, quindi la guida giuridica, vogliamo tradurla anche in cinese, perché ci sono delle classi che hanno anche dei corsi di cinesi, questo per l'interculturalità, proprio è bello aprirsi a tutte le esperienze che i ragazzi vivono come percorso formativo scolastico. Quindi l'app per sviluppare poi le competenze dei ragazzi, proprio telematiche, poi sono quelle più vicine per offrire proprio un contributo a tutto il tessuto cittadino. Il terzo step del terzo anno è proprio dedicato alla costruzione del discorso. Abbiamo sì ragazzi di formazione classica, ma anche ragazzi degli istituti tecnici, ma non per questo non si possono avvicinare a quelle che sono l'arte dell'oratorio e della retorica. Quindi dal cosa dire a come dirlo, le regole della disputa. Regole della disputa perché tutti i ragazzi devono capire come bisogna argomentare, avere ragione non è chi parla più ad alta voce, chi urla di più, chi segue i talk show, ma deve sapere argomentare perché soltanto in quella maniera potrà essere portatore delle sue istanze. Quindi si darà così la voce, voce riscritta a un film, la parola ai giurati, per insegnare anche queste tecniche. E alla fine, tra tutte le scuole che continueranno, perché ne abbiamo anche altre tre, quest'anno sono quattro, ma ne abbiamo altre tre in lista di attesa, perché quest'anno sinceramente più di 140 non riuscivo a gestirne, faremo un torneo della disputa tra le scuole su temi di interesse filosofico giuridico. Questo per cercare di offrire al meglio il nostro contributo all'Avvocatura, e quindi al Consiglio Nazionale Forense che ci sta così vicino in questo percorso. Grazie.